Una accelerata per il piano di zona S1, frase trita e ritrita ma che adesso va necessariamente utilizzata perché si arrivi al più presto al nuovo bando, perché i servizi sociali ripartano senza intoppi da settembre con la convinzione che ci sia la necessità innanzitutto per i nuovi sindaci appena eletti di prendere visione della situazione generale. Il sindaco di Nocera Inferiore, Malleo Torquato, è convinto che ci voglia in primis una migliore organizzazione generale, non mancando però di elogiare il lavoro dell'attuale coordinatore di S1, ma pur sottolineando comunque dei distinguo. Il piano di zona stanno facendo il bando, io sono stato tra i comuni che erano meno favorevoli a questa impostazione, tanto è vero che avevamo chiesto che ogni comune desse delle disponibilità di unità lavorative in capo al piano per ammortizzarne un po' i costi, la maggioranza dei comuni ha stabilito altro, ovviamente il piano è in corso, si dovrà fare una commissione, credo che sotto alcuni aspetti sia un po' sovradimensionato l'organico, resta il problema del meccanismo di controllo del piano di zona, c'è la nomina del nuovo coordinatore, è ancora in ballo, perché la dottoressa di Somma, che è una persona rispettabilissima, discafati, che fu nominata con un tempo a 60 giorni, chiedeva una proroga, un rinnovo, era proprio in discussione ieri, io non ho avuto neanche la comunicazione tempestiva per partecipare, c'è stato ieri mattino, questo è un altro andazzo che dovrebbe finire da parte, lo dico, della gestione del piano di zona, non è che possiamo essere convocati ad ORAS come se stesse a casa propria, non ho niente da fare, convoco i sindaci per il piano di zona, oppure c'ho l'urgenza di convocar l'ultima tutta, però ripeto, adesso si sta un po' riassettando il piano, il comune di Nocera per il tramite dell'assessore alle politiche sociali, seduto al tavolo di coordinamento nella giornata di ieri, ha opportunamente chiesto che ci fosse un aggiornamento della seduta alla presenza anche degli sindaci neoeletti, perché ci sono gli altri tre sindaci che adesso si inseriono, diamogli il tempo di partecipare e conoscere un po' i meccanismi, per cui si è stabilito, il concorso va avanti, si faranno le commissioni per le selezioni, il coordinamento del piano di zona in capo alla coordinatrice di dottoressa di Somma, che mi pare una persona per bene, con questa impressione, senza nulla togliere a nessun altro, una persona di buona volontà e a tutela della cui azione, se ci fossero dubbi di legalità, il comune di Nocera si schiererà sempre, se ci fossero dubbi di legalità, sarà prorogata fino a un altro bimestre, giusto il periodo estivo, poi si deciderà sul nuovo coordinatore.